Ora dovresti sentirmi Ha detto che tu sei ricchione Secondo me tu, un po' più tu che lui, però tu molto di più C'è i fan, i fan, i fan E' un po' più bello Entra dentro la mia testa Tutto il culo su una Tesla Che cosa? E' un po' più bello 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 Questa partita E' un po' più bello Dobbiamo andare obbligatoriamente E' un po' più bello E' un po' più bello E' un po' più bello Mmm Oh Quanto sei vol riffare un commento in live un commento in live Matti modami vai in live un attimo a vedere a vedere chi ha scritto il commento please ha detto sì no Matti ha detto che sei scritto ha detto che hai finito i compiti ok che cosa iscriviti che sembra di Ti trovi a lehicon Ok, a me è preso a me divertito a Decon 2 de iquand Lui gioca nel centro dei vape Ma che f*** Ma di cosa? Mati Mi ammazzano Dequan C'è la schizzo che mi ammazzano TSM e Dequan No, ma c'è la live Bro Non ci sono mai TSM grande col clattino a basso Dequan è scritto in questo modo Dai, quello che è Un secondo che sto andando su YouTube a controllare a ricontrollare TSM Ok Minchia, infatti va troppo sano Minchia Dequan Porca puttana Perché è la belloforte C'è la belloforte Ma il cazzo sa di No, mi ha killato malissimo Bro, ma se mi ha killato un motore c'è stato Vabbè Non era un pro gamer Però era abbastanza bravino I soldi Questa è una follia di questa vita mia Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Dai, un'arma 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 Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Aspettate che sto entrando nella parte di un amico, aspettate. Andiamo a casa mia. Che cazzo vuol dire cerca un lama delle scorte? Che cazzo vuol dire? Cerca un lama. Ma è possibile che mia cagina si piange sempre? Eh, può dire. Quanti anni ho? Sette mesi. Finchia. Io a sette mesi ero una macchinetta urlante. E questa urginante è troppo quieta. Cioè, che parlava poco. Cioè, è troppo quieta. Andiamo a casa mia. Mamma, è troppo quieta Martina. È troppo quieta Martina. È una scarsa palle. È una scarsa palle. No. 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 Sinceramente io ho pianto fino a un anno. Da un anno in poi, i miei genitori hanno detto che non piantevo più. Io non ho pianto nemmeno un anno. Cioè, io da piccolo ero tantissimo. Cioè, i miei genitori mi dicevano che da un anno in poi ero impassibile. Ciao YouTube. Io sono già su streaming. Che sto stremmando? È pura follia. Non è tomati a casa mia. Mi sta facendo il servizio. Ma le sette mesi è pura follia. Ma le sette mesi è pura follia. Ma le sette mesi c'è gli occhi di sinale che è tornato mia. Non mi fa il metraietto. A me non piace la Nutella. Speratela. Ma la mina. Guardate. 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 Fagno mani una culata. Fagno mani una culata. Fagno mani una culata. Certo. Bravo. È un'intelligente. È un'intelligente che ti metti in dislike solo. È un'intelligente che ti metti in dislike solo. Fagno mani una culata. Ma hai cagato la mina. Oh raga ma è possibile che non mi entra un hit? C'è una mina di merda. Che palle. Vabbè quello ci sapeva. Ma la fungo. No devo abbassare un po' con la mira. La sensibilità. Secondo me. Oh Matti sei entrato. Io sto in partita. Sei in partita oppure no? Aspetta se entro veloce no. Se entro veloce no. Bum. Vai. Ok. Se metti pronto entriamo veloce dai. Aspetta. Mira mouse. Ciao raga lasciate like. Iscrivetevi ancora. No avete fatto. Metti gli schienabbo bro. Ti prego. Metti gli schienabbo bro. No. Voglio vedere la coppia. Non ce l'ho fatta. Fede. Lo hai sentito il Tg che è in Sicilia? Si è andato tutto. Ma non in Sicilia dove abito io. Perché sinceramente qua dove abito io c'è un sole che spacca i marmi. E non scherzo c'è caldo ma non c'è sole. C'è un po' cattino. Poi che mi piace il cattino che c'è la panna. E' un meno sì. Né a quanti pà. Mi è venuto un Hatchort. Un Hatchort. E whatafuck. Si eh no no. Cattivo Pinacoli. So che abbiamo posto. Whatafuck. Cattivo Pinacoli. Cattivo Pinacoli. Cattivo Pinacoli. Cattivo Pinacoli. Cattivo Pinacoli. Ho capito. Però è troppo un zanno. Mi sai che aspettare. Ok. Birà. Invece la Bari. com'è il tempo c'è perché guardate a birardi e fiscina che non c'è tutto la merda e non quasi è sereno con un po di nuvole non vuoi proprio sereno non ho qua strano come un po di nuvole al tempo un po una merda c'è ad agosto ha fatto freddo ora c'è caldo via manca venire la mia life è proprio scritto no via di sacco una vecchina brutto non scherzo anche a me l'ho fatto per uscire io dai traiette traiette o che mi perca troia io un po un po solo voglio magari qua no mattia mattia aiuto mattia sta sopra sta sopra vieni qua ti regola questo e pure questo e pure questo non no no ma ciao la scelta la ricerca del mio io ho detto la rai ok cerchiamo pk mattia io faccio dopo in partita non faccio nulla ok non c'è nessuno veramente si c'è gente veramente non c'è nessuno non c'è nessuno eccoci ma li sento in fondo bella via comunque a sparare però li sento in fondo ma li sento in fondo c'è gente c'è gente c'è gente si ma ti come ce l'ho messo io proprio la gente ce l'ho messo tu per il dretano hai la ballerina tu bro no non è importante quella ballerina per fare ballare giusto così di ballare poi poi anche con loro e poi ammazzarle lui hai una scalping per me? bro ma non vedo nessuno non devo sparare che cazzo ho fatto ho parlato non vedo non vedo ma sento help però non tocco mentre Non so come entrare Tutto fuso What the fuck? Ok l'ha ammazzato Su Luca Chi l'ha ammazzato? Io Perché mi ha ammazzato a uno A quello che ti ha ammazzato ti ho vendicato No mi ha ammazzato l'altro Perché l'ha abbandonato? Non l'ho abbandonato niente io Adesso che ha abbandonato Tu a me Eppure a sollino Andiamo a fare imbano Ma non so come si suona il campanello Vira Andiamo a me Andiamo a casa mia Ma guarda che c'è Lo deno pure a me il copyright Balla in cima a un albero rosa Ok ho capito dov'è l'albero rosa Eh sì ma come si fa a farlo suonare Ding dong Thank you very much for any dislike Come si fa a farlo suonare il campanello Ehm penso Samuele davanti Sì sì Cioè no dai Voi più tardi perché io credo Volevo fare un po' di coppia per ora Cosa? Un po' più tardi Appena arriva un altro Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? No ha detto Andiamo a racchia Ha detto Samuele se volevano giocare A me mi piace Nutella Gelata da panna E merdine in quantità Ah ti devi avvicinare col quadrato Si spi Cioè si preme il campanello Eh resistia rapida Stavo vedendo la chat E non mi era forse Abbiamo la venditura Ho la venditura Col kart vengo eh Oh Non ho preso danno Raga non ho preso danno WTF C'è la live Vediamo che non ho preso danno Vai Vediamo la live E infatti Non ho preso danno Spickless 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 Non ho parole Non ho parole Non ho parole Spickless Spickless Non ho preso danno Non ho preso danno Infatti Si si L'ho visto tre volte Non ho preso danno Sì, dopo metto con l'antica di like, lasciate likes, ciao, ora fa l'accesso a chi era? Ah, Michele Valero così, oh, ok, ciao, a me mi piace la Nutella di gelata che ha la campanellino, ma dove sta il campanellino? Un giro, ma comunque non fermare un cazzo, oh no, ma chi, ma tu ti amo io comunque per aiuto, certo, vengo, vengo o non vengo, dimmi, sì, vieni, una piccola testa in borsa, ma sbatti, un po' di argento, arrivo, vado, 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 bella cosa, ma io non ci sto capendo niente in chat, bella cazzo, così scrivono bella, non capisco, non ci sto capendo niente in chat, ma come sei morto, Fede? Fede, ma la Fede non parla, quanti siamo, 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 7, ciao ragazzi, ho scelto like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, calamiti, no, stiamo facendo, cioè, skinnab, dopo te la metto, calamiti, dopo questa la metto, quanti spezzatori hai, fragevole, companion 1, quanti spezzatori ha fatto, qua, anzi no, qua, Gerusalemme, vai Ma io non ho M Ma io sta Raffaella Cessa Dove nico Valeria Il capo degli FK Non ho aperto la cesta E' morto E' morto Cato E' morto E' morto E' morto Avevo paura No, che ragazzo Sto giocando male Decisamente male Siamo scarso Calamity È passato già un quarto d'ora Ma siamo seri Fede mi dà fastidio il fatto che tu Levi le cuffie Mi dà fastidio Capito che non vuol detenere live Però Comunque il controller è un blu chiarissimo Cioè il celeste è chiaro Andiamo all'anno oppure a palmetto A due palanno Vai 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 Voi 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 Mattia, sei ancora vivo? Vieni, sono vivo, sono un'arma, 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 io non mi esprimo perchè siete messe di notte no io non mi esprimo 10 5 like tu si dili di passare al mio canale ogni tanto passate al canale di mattia piepoli che si chiama pick up mattia 2503 questo qui questo nome qua ce l'hanno lui passate e lasciate like e ritornate qua no a me piace di andare ancora di merda la gentilità è merita stupida bibì stupida bibì come no a me piace di più si se andiamo la babbo the Sì, guarda lì. Allora perché aspetta vediamo se c'è un'arma sopra e non c'è una jump Sono sotto non c'ho armi Terra 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 Dai oh 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 mi finisce no Matti Devi venire qua definire l'amico Dai Matti E' morto E' morto la fidanza mi tre minuti ma dritto ma dritto ah il campanello mi ha toccato è anche il campanello Matti Matti è sono anche il campanello è sono anche il campanello ah Matti è sono anche il campanello e non ti ne sei accorto hai capito lo so lo so l'ho fatto apposto ho tanto in testa ho tanto in testa mi chiede lo sciampo ho tanto in testa ho tanto in testa non mi inizia a spammare mi è abitato Tu le distorio Ambo l'ultimo la 5 e la 25 C'è? Guarda le isole Dove vuoi? All'isola Eh Sono neancheando 3, 4 isole 5 No, quante le rune? 6, 5 No, 5 sono per ora Andò qua c'è un pompa Che so io Ah, ti mani? Che so io Ma ti mani? Eh WTF però ho un inventario di un po' brutto però chissà ma c'è gente? boh, sinceramente non lo sto incontrando a nessuno e sto lontando tre case dimmi sani dimmi tutto volete vedere che mi trovo gli cittadini? ci scommettiamo? da me? un nabbo ma mattina è un procio quindi c'è matti tu nella tua testa che c'è un procio un nabbo no no non morire vieni qua sono sto avendo con il rampino per farti capire è forte è forte è forte è forte bellissimo mi lasci il loot del mio? un secondo si che qua c'è il portatile e devo fare una missione ok devo matti tu non hai quella missione lascio questo loot però ci ho bugato si ti rispetta si ti rispetta in qua in qua in qua in qua in qua in qua what the fuck grazie dimmi se era abbastanza bravino questo comunque fuori si il loot comunque ho una band per te sono spere 4 io me la prendo 1 no le metteranno spere 5 vieni qua 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 vieni vieni 5 sono non è bonus abbiamo una bocca di questo è dispiacente adesso non è mele mele è mele mele shhhh chi è stato? 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 io non ho quasi niente ho la munizione di studio e la mia polla del medic sono poca sono poca zii l'importante è che sei forte tu ma che? ho un certo bastale un? un certo bastale eh quello che mi dicevi tu quello di oggi quello di stamattina del parco giochi adesso si si ah siamo nabbi dobbiamo fare il parco giochi vai entro e ti faccio vedere che siamo nabbi dai vai 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 entra 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 me la vedo io dai a te è un po' più squilibrato l'ultima cosa è tastiera ma solo io lo batto lo batto io te batto Ale Samuel si ma trovati un amico così siamo in quattro a fare squad però forte è hai col piccetto va è ora es ma chi? 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 ci sono? ok e... mele melinde dove? dove? vabbè fa niente anche da me ce l'ho ce l'ho si ma tu manca per me un po di shield eh bello non ho scordato ho pensato che l'avessi ancora vabbè si io non ti batticcavo oh monte samuel ha detto ehm ehm ha detto battale ci poteva chiamare natale perchè la canzone dice a natale puoi oh mio no nel senso batterci no no vabbè no no ti giuro entro nel partito entro però ha trovato l'amico che ha detto perchè è brutto fare squad 3 contro 4 non tre tre sosti bruttissimi Cioè partiamo in svantaggio Ma i problemi Vabbè no Io sono fullegno Sì me lo stai sentendo Che cosa? Non senti? No Che cosa è? Il mio padre che fa miau mia Non lo senti E si sta cantando Nella vecchia fattoria Madonna Madonna Aspetta che faccia Un cerchino buono No quello era brutto Molto colpa Io ho il bar Thank you Vabbè è un giacanato La safe Non l'ho vista proprio Anche la safe In quel mondo Molto vicina mi dicono Porca Hai una jump No Io la bello Dobbiamo scappare Cioè ci dobbiamo muovere Forte Matti sto giocando mio fratello Lorenzo Sì sì va a me Nella vecchia fattoria Ia iau Pipi 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 Mi sta venendo Mi sta venendo da cantare Non avevo già fatto Sì Canta Ti odio qua Non far uscire Mela melinda Tata 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 Sì 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 ma ti ancora c'è un bomba bianco io ho il blu da nonno no un vampa un vampa il pompa quello è pure io ho il palo di gente dove tempo stanno facendo madonna sta big battle qua ai colpi ciascobro si fa qua accanto abbiamo mancato anche altra gente vieni qua in safe vieni safe vieni safe stai andando da solo è tranquillo voglio capire se sono qua si si ma ti attento che ti vengono incontro ma che ti vengono incontro attento va a venire con un attimo attento a l'attento ma che ti vengono incontro ma che ti vengono incontro ma che ti vengono bravo 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 Stato, spawn it Terra Sto scappando, dai ammazzo Dove cazzo Dovebbero Dovebbero Ma ti vuoi shield? Ma ti scelgo sotto Ma ti scelgo sotto Ma che Hai legno Si Io ho Io ho qualcuno di un per quando hai bisogno di legno o che hai no 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 ce l'ho altro materiale e c'è l'ha inizia aspetta ti posso dare 2 e 2 16 359 vieni qua c'è un gioco davanti comunque dove la jump ok qua vai vai prende 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 aspetta ah eccolo e da me qua con ildo ah 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 non c'è un po' di farlo non c'è un po' di farlo vedi qua 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 vedi no ma si vedeva come buildavano no ma belli bravi matti se tu inizi a sparare meglio con lo scar ogni tanto con lo scar davvero lo scar gli ho tolto 31 con tre colpi poi gli ho tolto 34 in testa col pompa blu del nonno e che stiamo parlando e vabbè purtroppo la vita è così vabbè abbiamo fatto una partita abbastanza buona a corso commercio quando che l'hai tu due tre buono no scherzo ho una buono ho una o due non lo so non mi ricordo io ho una dodo una due due vado indietro a vedere no ma ti ho l'input bloccato nella tastiera no vabbè basta io no no ti stimo bro lo stimo questo qui la stona abetto lo stimo No, se lo troviamo non lo spariamo, ok? Vai Ci sto Everybody 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 I'm with my, my love, my love Anzi, sono più basso di tempo, ahah, sono più basso di tempo Ambo Amburo Che merda di skin, è tutta buggata anche la skin Cioè, dove andare a piccola E morire Devo fare una shieldione, aspetta Tanti a me c'è la gente, non c'è tanta gente Tanto Ambo, ti fai la shieldione Sì, che palle In realtà stavo affettando un altro Ma non è bello Sì, ma ti faccio vedere quello che ho mangiato È una bestia Solo a me leva 35 È ufficiale, solo a me leva 35 Il compagno è qua la terra No Anno Solo a me leva 35 in testa Solo a me leva 34 35 in testa È un abbo Solo a me leva 34 in testa È un abbo Solo a me leva 34 in testa È un abbo È un abbo Ma a me leva 35 Ma hai rotto il cazzo A me sono mouse e tastiera Devete capire Che io non so giocare Con gli mouse e tastiera Ma io sì Perché sono troppo forti Ma ti non so giocare con gli joystick Quindi ti ha la meglio tu Ma neanche io so giocare Contro mouse e tastiera E mouse e tastiera Sono delle bestie Invece la controller Ma infatti sono una bestia Uè 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 O io mi ricordo di chi le imparco giù che è 37 Lui non sono per i coglioni Uè 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 a pinnacoli pinnacoli pendentini e chi resiste un po di più ok io appena scherzo ok questo è il pinnacoli stronti o merda non chi sono io 2.5 andrà pinnacoli personato hai morto sì ma io volevo tutto il campanello, mi interessava certo, io vado in una cosa, cioè io gioco a fornette per suonare il campanello no, per la missione, per la missione ok mai nemmeno, non mi interessa se vuoi venire a riusciarmi ti dico grazie, non c'è nessuno ma certo, c'è uno davanti da questo qua non abbino dai dai ci sto vieni dai prima cosa ci farei aspetta dai vieni, cazzo non so non arrivò, arrivò va beh, ciao aspè è il tempo di venire cosa finché arrivi potri morire problemi ok non, no non ti cura no 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 dai non farlo dai eeeh eeeh e ciuuu no perchè non devo un'amnarda come te vuoi armi cosa vuoi? serve ma ben detto cosa è ben chiudini voglio un'arma me la fai prendere siiii ma porca no 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 resisti ah dato una delicia io esisto tu no 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 hai ragione esci ma che esci mette su mette su mette su mette su mette su aspetta ma non fai tanto ti dai silenzio vabbè ciao non so perchè ti sei morto se non esci sei morto sei morto sei morto fai tanto di lei gg lasciate like lasciate like lasciate like vabbè intanto ho fatto due kill se andava a finacoli l'investigazione ci belevamo di più dai matti a merda metti pronto finalmente butta a merda ma ma hashtag matti ha più un nabbo del nabbo hashtag matti è più un nabbo di me ma ha scritto anche che soddisfazione un containing Che soddisfazione batale Allora andiamo qua No E' schifo E' schifo tu Passatempi pompolosi Passatempi pompolosi Passatempi pompolosi Pompolosi Pomposi Ma certamente ho il torino Per entrare questo è bene Mancano tre ora E li posso esercitare Che male Che bell'arma Un'antitone molto vicino a te E c'è un vampa blu Pochie pistole, due Oh Oh Seppercita No Tutto E' schifo Un'antitone Misika Un'antitone 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 hai bender no è una sorta di quella che avevo l'ho finito tutto ma ti vuoi scendino? si ma sta mai vicino che ok ho trovato il pescidino 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 eh davanti a noi pescidino pescidino piccoli 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 ma dai pochettino per favore cosa non stanno lo so birano lo so vende ci sono vende c'è nò da proprio c'è mata ho ho E' unino che mi piace E' un'alliazione E' un'alliazione E' un'alliazione E' un'alliazione scambio fai scambio col vampa mio oppure se lo tengo a dislocar va bene va bene dai dai arrivo arrivo vieni qua vieni quant'è che l'hai tu due io mezzo mezzo filo perché quanto si fa filo perché mi hai f***to tu quel cavaliere ma che cosa ti ho avuto stronzo si è stronzo ma c'è nel presente cosa sta nella si non so perché non parla non lo senti io non me non 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 ok aspettami mi si sono giù ELVORTI dai 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 ELVORTI Sì 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 Matti Sì Sì Builda Builda Niente a Build 33 33 33 Pezza Sì 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 Terra? Ah ma comunque team Bro, provare a scendere a arressare Ti prego Ma dove fai a farm Eh sì, ma se... Non c'ho materiali, bro C'è pure una jump, così ce ne scappiamo Bro, non c'ho materiali, bro No, facciamo aspetta Spostati, spostati Spostati Minchiamatti, dai È morto È morto È veloce Vai Hai materiali in più però perché c'è un po' Che ho 100 legno e 100 ferro No, io ho 274 di legno Ah Perché quando mi hanno fatto un vittore, ho un botto di moto Mi dai il medikit? Sì Mi dai un po' di cose, non ho niente Bravo, non ho materiali, quindi aspetta notte No, le azioni pompe, bello Le azioni pompe, 106 Medie? 100, 400 E me le dai Sì Veni qua, veni qua, veni qua Allora, quindi quelle vuoi tu? Pompa e medie Pompa e medie Pompa E medie Hai la butta fuori? No Metti la jump Ah, infatti Vedi che mi hanno levate la butta fuori Ma davvero Mi hanno capito Ah, cazzo, perc'è? Andiamo al tornare Infatti la fanno Matti, ma non c'è non c'è un cazzo, in merito, non la vedi? Sì, che ce l'ho Ah, ho visto che ci sta seguendo Dove? A noi Ci sono due, sono due però Menti, no, vuole un altro Matti, non c'ho materiale Io ho bisogno del tempo di farmi un medico No, non ho materiale Matti, dove cazzo stai? Stiamo cerchionando, Matti, devi venire indietro Sì, ci vado da dietro Un orribile sonno Aspettati, 23-23 Ma stanno facendo Meglio, andiamo Vieni in safe Bro, vieni, vieni con me Che li ammazziamo Da dietro Sono ammazzati a 200 C'è un altro film ancora Lo so Perché non c'è il film Perché c'è da un altro film? È cato, è cato Eh, stanno qua Mi hanno bruciato Mi stanno bruciando lì, ormai Non ce l'ho qua Terra Non ho più colpi bomba Non ho riuscito Un materiale Io ho bisogno di aiuto Bro, ci provo Pur di non darle la kill Vieni qua sotto, vieni qua sotto Guardami Come vedrai mai Bro, non ti aspetta Bro, dai, però non mi ascolti mai Prima mi hai ascoltato e ce l'hai fatta Quindi Vieni qua Bro, bro, bro Sto scappando Meglio Hai i bender No, fu No, no Ci sono bender Bro, bender, 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 qua Quindi ci sono Bro, dov'è? Qua, qua Io mi sono rifatto il mio Ferrari Io non ne ho Ho 300 legni e basta Tieni, però Dobbiamo poterlo un po' cattino Sperto Oh, thank you Sperto Ci siamo altri Altri cadaveri viventi Nel safe No, questa parte è bella Quanti kill? Due, due Ma è bello uguale Anche se non abbiamo tanti kill è bello Ok Siamo usciti da una cosa impossibile Guarda Ma sempre a dietro sono Ti devi ascoltare O davanti 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 Ho visto Hai shielded? Sì Tieni Quanti mi hai bro? Dieci Nove ora Me ne lascia un po' così se mi devo curare ce li ho Tieni Tieni Fallo cadere Fallo cadere No 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 Questa è vero Poi Cuore 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 Troppo Stanno qua andale bro se non fa bene non mi hanno ma la f***a ma la f***a madonna questi qua non hanno bravini ho visto la mancia e te stessi sono troppo forte ma non è una questi qua non è una scompita eh non ci sono niente non puoi giocare con gli stessi siamo negli che siamo troppo scarsi e che passi l'invitare nel porti si sto invitando a giochi ok vediamo se ne entra non sta allando insomma ti è invitato metti riempi vai come on è che bravo Grazie a tutti. Siete di che colore è il controller? Di che colore è il controller? In che senso? Il colore? Sì. Della luce o del controller? Della luce. Blupero. Non c'è mai il controller? BK Matti è speccicato e K250 un pomodoro. Sì, sì, perché diventa viola. Sì. E io vado alla mia casa, profeta profeta. Ci arrivo basso, però ci arrivo. Non so. Io manco. Una pistoletta o c'è? Ah, Matti è morto. Matti, Matti, Matti. Ce la potete fare? No, guarda dove sono io. Matti è morto. Io sono morto. Matti è morto. Qua gia hanno il pompa grosso caro. È il pesce. È devastante cellezio. Mi stai laggando son miei. Aia Io ho levato 23 con la pistola Anche se la tua presenza mi avrebbe fatto molto piacere Lei voleva Matti Metti riempi Non vale la pena Metti che troviamo un nab Che ci fa scoprire Che ci ruba le armi Matti scaricati Ghostfinder Serve per trovare i fantasmi Ti giuro Non stai male No Ti giuro Cerca Cerca pit Cerca su youtube pit Pit Ma questo non se ne frega Mauro Non parla proprio Hai anche detto Ma secondo te esistono i fantasmi Cerca su youtube il pit Non fantasmi Non fantasmi demoni E tu ci credi? Cerca questi qua e vedi E vedi se ci credi Ma sono tutte cazzate Ma sono tutte cazzate È un'applicazione rotta No Allora Un'applicazione creata con coordinate Allora E questa applicazione è fatta con le onde magnetiche Le onde magnetiche sono in pratica quando c'è un qualcosa che non vedi ma c'è Quindi cosa possono essere i fantasmi? I fantasmi demoni Cerca su youtube pit P-I-T E vedi Che cosa usa una persona Ma che cosa vuole esprimermi a me Cazzami demoni Cazzami fantasmi Ma c'è Cazzami No Il diavolo ti mangia il culo poi un attimo Non si dica Il diavolo ti mangia Ma che cosa vuole esprimere Matti sembra che hanno timo L'ho ammazzato Duki Ma che cosa vuole esprimere Ma che vuole esprimere Ma che vuole esprimere Cazzamaro 2 E 1 Si No E' una Una Trova 3 Kilo Si Hotto Solo Segnano Aspetta Aspetta Eh si Chiama XKE XKE XX Es Tipo Le Carme Lettere Tipo con punti interrogativi mi voglio vedere la sua partita mi voglio vedere la sua partita se costa minicampo a tutti è hacker questo compagno se costa minicampo a partita se lui fa tutti i giotti vediamo la partita no non tutto no voglio vedere il primo file c'è un'altra partita per il torneo di stasera ci sei e dove debba che vorrei uscire un tormento però e me lo devi dire perché c'è un'altra persona per il torneo ma tu non riesci un proprio domani quindi eh devo vedere c'è questo qua gente davanti non viene in posto a un caso ma devi farci sapere perché se no dobbiamo trovare un'altra persona quindi decidi veloce decidi veloce decidi veloce io l'ho pittata decidi veloce già se devi fare c'è c'è jacopo Ma ti metti pronto Sta a mettere pronto Giacomo Giacomo Giacchi 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 Are you riding? Che minchia? Biccio L'ho buttato pure a su giochi minchia rotti coglioni Dai Yoki non farei gay Non farei gay Che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Non mettere video che mi pannano a fare copyright Non erro che fa casino perchè stavo mutato Giacchi Ehm, chi ha? Devi giocare se no, devi dirlo Perchè sennò dobbiamo trovare un'altra persona Non penso che non Non penso, devi essere sicuro Sono sicuro, sono sicuro A che ora accende dopo? Ehm, 7 e 10 Allora tu devi stare con me per forza Cioè, vista come riserva Ancora... Ancora... Cosa vuol dire? Io come riserva? Per rinceggiati Ci sei tu? Ma non te l'assicuro comunque Alle 7 e 10 si gioco Non so per quanto 20 minuti, mezz'ora, non lo so Non so Dili un arresto a tua madre Ma il fatto è che mi pare sì Si vedrà con la televisione E poi, vedi, più stacco Cioè, per me sì Lo posso fare, però per mio padre no Vediamo O poi stacco per 10 minuti e per il giorno Tra 10 e 10 minuti Ehm, lo faccio Ehm, comunque, fatto il stacco avevo bisogno di armi Voi allora la salle del bianco Voi lo scuola Voi cosa es quant' ha fatto per imparare non c'è nessuno raga veramente veramente non c'è nessuno mattia hai i shieldini hai i shieldoni hai i shieldini o i shieldoni chi ha i shield raga ma raga buongiorno raga è normale che ho messo giù amici zero spettatori arriva che sono a 22 messaggi e arrivo a 24 e non c'è spettatori io rimango allucuto 3 n via inoltre ieri ieri ma che cazzo c'è ci sono io rispondo di catino ma è dark john non è dark john si chiama yaki no, yaki scusa e comunque non è dark john ma che hai shield della merda hai shield della merda hai shield della merda vabbè ha scopato la slurp stiamo meno stiamo meno stiamo meno è te mattia ah jordan bo non lo vedo la nza non lo so ce ne sta mica comunque yaki yaki che è un cordello ci sono you poi mi dicono che non hai yaki 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 ee Matti Ma sei vivo o morto? Esatto E c'è un mello No, me ne sono due Colpi fa un paveto Eh, in più Naga Oh, insomma Scendiamo un attimo Vieni con me Mattia Io appena finisco il torneo quinto C'è proprio istante Alle 8 meglio finisci Non può finire prima che so alle 8 Ho un quarto Mmm, no Non è bello, non è detto E' un secondo Da me, da me, raga Vieni qua, vieni qua Venite Vieni, vieni Matti No, no, no Gioco, però era come domanda Andiamo, andiamo Eh Tu verso Vai Vai Matti da giusto Ehehe Vai Perché No, mi spiego Che cazzo fai? Sì Io dovete stiamo meglio da vivare Che cazzo fai Che cazzo fai? Com'interessa Se avete fatto tutto Scandata su m***a Ma d'amore bravito Non ho fatto niente di m***a Non ho fatto niente d'amore Non ho fatto niente d'amore Poveretto Mattia Bullo di m***a 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 oh nooo finisce! ok va! c'è dai, tutto in tre mani! forse! no! ah tu sei che ragazzi! aiuto io! aspetta! aspetta! entrate qui dentro! entrate qui dentro! entrate! no! no! giudi! vieni! vieni! matti! non te ne andai! come tu? cuore a mattia! cuore a mattia! cuore a mattia! allora i medici sono uno! ora vieni! non so di far mille cose! raga io sono molto più... e mi banna no! raga metti che tu qua! vieni da qua! vieni da qua! vieni da qua! eh matti! dai un monto! vieni da qua! vieni da qua! vieni da qua! ora te lo! aspetta un attimo! piccoli! 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 piccoli mi fai non due! vieni qua! medi! eh un po' di piccoli! pure a me ho un po' di pompa e medi! pompa e medi! pompa non ho più! eh! bro! medi! si! hai detto piccoli! mi dai un po' di piccoli! mi dai un po' di piccoli! vieni da qua! usciamo! mi sento! ho capito dopo dove sono! ok! zero uno! Raga qua Terra 2 Bravi ragazzi Ma cazzo ma ci sei toccato fortissimo Ma ho toccato fortissimo ragazzi Un scheletro e un mangia... Che si chiama? No salmi a cura salmi No ragazzi erano fortissimi Questi erano fortissimi Forti ragazzi Erano fortissimi Muogliono dalla safe No non muoiono C'è il tornado quindi non muoiono Non muoiono Non erano abbastanza bravi Perchè 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 Vabbè Perchè Abba Perchè Ho bisogno Ho bisogno Perchè uh Poi puoi toglierla ok puoi toglierla giaghi togli quella trappola eh la rompi oh ah l'hai scelto eh quanti kill avete? uno eh vabbè c'è cristo no brava vieni bravo 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 dai che posso farci? che puoi farci? M'ha aspettato ma che cazzo aspettato? eh sì me ne ho più idea che facevo una band dello scildone perché è troppo lutto ahi è capito allora allora no no non c'è altra gente quanto mi riguarda andata di Cristo dai che la vinco per voi raga dai hanno allevato i portali quindi non ce n'ho più ah è stato l'agenda per me rimbora Sì, non è vero nooo perchè fa lontano poi non sei niente se l'ha più vicino se andava poi fa lontano piatto il bai ho sentito un rumore strano tipo una bomba a scoppiare si 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 se vuoi ci fanno con me così vado a bere a dopo vai a bere a dopo vai che sta arrivando sta arrivando vai 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 stai scendi scendi si è vero vero sono tolto si perchè è stato un errore del gioco cioè non volevano mai no non mi piace mi spiace però lo so la voglia un po' poi si è vero ha detto Mauro in ogni senso legge la chat come faccio se sto giocando che sono solo contro squadre non mi spiace mi spiace non 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 mi spiace ma non mi spiace qua un po' è minch diecchino si o Nisi scherzo a Ismaura Potsko capire wow, è stato bellissimo questo è super giù www.mesmerism.info 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 Ma io non posso giocare più tanto, perché ora stacco, fra un po' stacco. Dai, metti pronto, Jackie! Ok, posso. No, scherzo, perché potremmo anche trovarci contro. Ed è brutto. Jackie! Cioè, anzi, è meglio se si chiudono contro. Tra due ore e mezzo abbiamo il nostro torneo. Ci vai chiamare. Tra due ore e mezzo. Eh, ragazzi, andiamo a Pinnacoli. Oh, Samè, prima ho incontrato una che si chiamava TSM di quando? Papi, vieni un attimo. Dai, qua, anche me. No, è il sonoro, è il sonoro a giù. È grande. No, aveva la inglese. Andiamo a Gabbola, Gabbola. Pinnacoli. Vabbè, Gabbola. Gabbola scheretti. Gabbola scheretti. Gabbola scheretti. No, 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 è che è una carrellotta con un tuscino. No. La discoteca per piacele è mia. Yaki Ho detto discoteca Venti c'era è mia Minchia ci siete in treno Disco c'era Minchia Ho detto discoteca mia Fangale Ma tutti qua sono Non mi serve Non c'è armi buone Perché tu pensi che io abbiarmi buone Ma porca tu Ho una bigola nel mezzo bianco C'è un caccia Una ammetraglia 3 O Quella alla grande Eh vuoi scelgo No ma scelgo ce l'ho tutto Scelgine scelgo Ho tre scelgo Da quanto non la vedo Cosa Ho tre scelgo Se Samuole non ti salutare tutto Perché Eh una calza ti salutare tutta Ma ma la fine può fare quello che vuole Poi se vuoi d'insieme a me all'iscoteca Dovevo che la voglio io Sì ma su carte non ha vinto nessuno Un cuore ma si Che merda raga Chi è che vuole Due sceldini e tre sceldoni Due sceldini anche Ragazzo lasciando scelgine Oh ma raga dai però C'è Qua ci sono E la rotta la palle Che è tutto di salutato Mi ha aiutato il mezzo di scopo E il cane Magari Io non mi ho C'è Eh io per me Un'arma vorrei Un'arma vorrei Dove dove Beh vieni Corriamo No vieni tu vieni tu Fidati No Cosa c'è Cosa c'è Ma mi fotti Mattia Non mi fottere la casa è mia Ma non fidati di me Madonna non si fida Che devo fare che devo fare non c'ho lutto Vieni su questo monte Vieni su questo monte qua Aspetta Devo prendere un po' di lutto Un po' 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 Io c'ho un po' Io c'ho un po' Cosa c'è Mattia Non c'è manco Niente niente Sì 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 Raga Sì sì Qua c'è il dono Aspettate che faccio così Che mi serve per una lezione Raga ma solo assalti si trovano qua Raga trappi la sola Non c'è niente 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 Raga non c'è niente Questo è bello Polpetta dove? Polpetta Il suo nome è Mattia Niente Lo sta laggando Il suo nome è Mattia Dove? Mi chiami la polpetta Stava piano Sì 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 Guarda non c'è niente Non c'è niente Guarda la volta Quindi dicездirò Non c'è niente Non c'è niente Che tutti ti hai Ja sì Non no Lui Pompe epico Ragagor La faccia vostra Ja sì e usiamo lei a tutti questo questo si di che cos'è? qua c'è un lacciaganata se lo vuoi quello è tutto affermatico ci sono rimasto io da zippo ho bisogno di avermi vedere quel tipo a un po' che ne ho quattro ok ma chi è che ha fatto è appunto raga io no qua guardala ok raga basta fare rumore questo cosa io ho atterrato uno mentre ha preso la gianta bravo che cosa l'ha detto Mauro? che lui ha ucciso uno con la digol mentre ha preso la gianta bravo mauro io dovrei essere mai dove? vista che sta inferno spara io con le pranate bravo 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 niente sul carter sul coso ho bisogno di materiali raga non c'è niente spai super bravo ah è un hit w basket peccato e margine mi procura grazie a chi vedi c'è la fase a e' one it bro e' one it e' one it ma che è one it ma che te la fai le poi ma che qua dentro ma che qua dentro no ah no abitai io l'ultimo c'è questo io ho tirato Mattias ma secondo te fra te e me chi e' più forte? raga secondo voi tra me e Mauro chi e' più forte? mmm non lo so non è Mattias però perchè allora perchè c'è Mauro che non gioca da un botto quindi se ricominci a giocare e' scarso secondo me quindi per il momento tu poi se a Mauro inizia a giocare e' bravo parapapà parapara vai all'ultimo questo ragazzo ci buttano a gabbo anche se all'ultimo e lo facciamo bella partita comunque quante chiedere avevate voi raga ha detto quando giocavo quando giocavi tu ero navissimo cioè quando giocavi tu era più forte Mauro era più forte Mauro era più forte Mauro si ora però no ma adesso sono 1.8 riesco a battere in build più o meno fede peccato perchè se non prendevo quella botta quando mi ha fatto cadere dai Mattia ha detto Mauro perchè adesso sei forte come no no è bravo ma ti è migliorato no ma ti è migliorato un botto quindi non direi minchia da te che mi batte in parco giochi quindi non direi minchia da te no 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 raga e' la mia ultima quindi bisogna giocare bello no no gabbo gabbo e' la mia ultima ah la campione va un pochettino dai raga dove andate tutti dai perchè pinnacoli raga dai grabbo grabbo minchia mi letto io a me va 54 53 59 60 59 57 56 56 57 56 56 56 56 56 57 ma perchè chi ha votato molto perchè è bellissimo io lo androva ha detto che ero amigliore solo sulla mira no era vero non è vero Se mi batteva a buildare, allora il primo giorno che ho iniziato a giocare, ho proprio ripreso da un mese, mi batteva nella build, ora non mi batte, però è bravo quasi, è forso quasi, non posso dire l'assato. Non si batte nella build? No, ora no, ora no, ma ti dai, non si bravo, dai, dai, dai. Ma tra Fede e Mattia in build chi è più forte? Tra? Tra Tema e Fede in build chi è più forte? Ehm, vabbè lui, ma usiamo un sette a sera, devi consigliare forse. Vabbè, ma se... Con il controller, non c'è ma, con il controller, vabbè, io non c'è ma, con il controller si riesco, con il controller si riesco, anche perché con il controller è un po' più forte tu si riesco. Con il controller si batte, lo sai. Vabbè, sì, vabbè, ma io uso solamente il sette a sera, quindi... Secondo me si batte, secondo me si batte, non lo so. Sì, nella mira lo batti, ma anche nella build. No, no, ora esco più tardi. Dio, che devo fare un torneo, diglielo, diglielo, diglielo. Gatti, non dire che tua mamma stacca qualcosa, perché non dire che può andare a un posto perché mia mamma non vuole. Direi che devi partecipare a un torneo, perché se no non vale. Io vado alla sedia perché non c'è più niente, raga. Cioè, non c'ho lutto, non c'ho lutto. Sì, secondo me c'è troppo sicuro di sé... Ma che è? Allora, cosa? Che? Ehm, Mauro. Ha detto innanzitutto che mi batti col controller nella build. E ha detto che lui mi batte sia in build che... Vabbè, la ciline... Allora, con il controller me la cavo. E chiede se vuole. A tipo di più. A me? Sì. Vabbè, cioè, sei migliorato, Matti, quindi sei... È troppo percentuoso, secondo me. Cioè, secondo me è vero che Matti è più forte di Mauro, è vero comunque. Mauro, io la penso in questo modo, cioè, perché è migliorato e battito a me. No, 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 non lo facciamo perché io muoca il senabbo. Sei, sei abbastanza, però... Cioè, Matti è più forte te. Raga, chi è che vuole un tac blu? È qua, a granaio. A granaio, a granaio. È il primo che se lo prende. No. Ti l'ha detto prima che lo prendeva. Quindi è giusto che se lo prende me. dai Yaki non prendi l'infame non ti ho da prendere Yaki non prendi l'infame Yaki non prendi l'infame Yaki 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 beyond eeeh tu sei quanto jordan me lo dicesti tu mauro sei quanto jordan io jordan me l'ho proprio sottotrato allora allora devo fare una scaletta con la porta ragazzi ragazzi tra me mattia che è più forte vabbè tu no 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 già che è una bestia è forte quando gioco bene non voglio vantarmi però il bull battle ti ho battuto due volte quando si vuole fatta provino e provino ti ho battuto due volte non ricordo ehi matti dai c'era anche mauro c'è mauro quello che sei no tu non c'è brofi provino agli altri con quello la con domenico valerio oh bravo qua è Medi no Medi anzi si aspetta perchè ah ok si vabbè si è così ma non riuscivo a fare una build seria dai giacchi sei serio ma ti ricordi non si riuscivo a fare una build seria per l'interv foto per Michele mi passava sempre stava anche Samuele se non sbaglio si stava molto Samuele ma che cazzo dici no stavo io Giacchi e Domenico Valerio no si se non ti ricordi è un problema tu matti ti ho battuto in build io allora c'era qualsiasi che mi è battuto si ma c'era qualcuno che sporcava continuamente le scale non ricordo Valerio ah c'era Dragon ecco qui c'era eh Dragon Dragon si 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 Dragon era Giacchi ma Giacchi quanto avete perso Giacchi c'era un medikit c'era un medikit lì alla casa ah vabbè quante volte sei adesso a fare questa missione si comunque cioè secondo me diventi troppo per i miei gusti Mauro speri di troppo non lo prendere come una speccia si dillo che ti sto scioccato punto ho fatto pure io ma eraglisi proprio ma eraglisi proprio eraglississima c'è una cosa epica lì vabbè che è mia c'è bisogno di shield car 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 what e lo vuoi un vampa epico? in realtà dimostri che ti sei su cazzo ma non me lo frega c'è l'altro raga avete band 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 ma c'è io ma c'è io il velo ho bisogno di un passaggio un passaggio c'è un altro c'è un altro dove sta dove sta dove sta dove sta guarda che era bene la il camion quel camion è la no ce n'è un altro là ce n'è un altro là le prendiamo il 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 prendiamo il 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 no io non posso vabbè te ne ho lasciato un po' cattino dietro tieni qua prendi, prendi qua ma c'è comunque questo è quello di due partiti del giorno ecco questo è un po' schifo al torneo starò stracando starò eh vabbè un tiro provo a saltare salta fammi saltare no devi saltare arrivano i down dietro a tutti i down no ragazzi no ragazzi un quarta sesta dobbiamo fare un quarta sesta vabbè in questa casa davanti a noi quale vai che vogliamola madonna raga risate risate uno che costruisce uno build the rest build the rest pusha terra terra arriva a terra arriva a terra arriva a terra arriva a terra manco te tranchi arriva eliminato no ma ti die morto no madonna no no grazie ragazze 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 ma loro no ma si sentito dopo il jump si era anche dietro vabbè mauro a me l'impressione che mi dà che volta che c'è più forte il quale c'è più che mi stai danno in un nabolo non mi faceva nulla cos'è che fa il cede raga uno è cos'è tenere che uno è un hit ma dove viene ma che sta succedendo raga eh vabbè dai ma siamo a dove caccia sei ma quanti c'è in mano raga vabbè fermo 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 ahhh ma quanti c'è in mano raga ma non c'è in mano vabbè dai raga io sto no ancora no non devo soccorre ancora ancora sono anzi raga dai io sto a cosa a tutti ciao 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 ciao